pubblici e qui trovo delle cose molto interessanti il primo trovo questo guardate Simone Gambacorta per me è un ragazzo perché è nato nel 78 Teramano di Teramo si occupa di letteratura e ha fatto un libro bellissimo con un titolo bellissimo la luna è ancora nascosta conversazioni capirà l'ha mandato a me mi sento mi sento in imbarazzo perché dice conversazioni su Ennio Flaiano con Vittoriano Esposito Renato Minore che saluto gli altri pure ma Renato lo conosco di persona Giuseppe Rosato e Lucilla Sergiacomo che già se non ricordo male ha fatto un ottimo lavoro su Ennio Flaiano una bella prefazione di Giulia Alberico e insomma è un lavoro su Ennio Flaiano il rapporto con l'Abruzzo il rapporto con con la letteratura contemporanea se è vero come è vero che non può essere considerato che non può essere considerato sceneggiatore ma è letterato a tutti gli effetti Ennio Flaiano e allora a questo punto questa è la prima cosa che ci piace dire come no Galad Edizioni questo che ha pubblicato le edizioni sono bellissimo anche il nome Galad Edizioni andate a cercare cosa significa perché è una cosa sufficientemente interessante Giorgio Manganelli ricordo di Manganelli insomma è un errore dopo l'altro uno dei capitoli si chiama io ricordo sempre una frase stupenda di Ennio Flaiano la vita non è altro che una serie inesorabile di errori finiti gli errori finito tutto c'è un'amarezza ironia e amarezza insieme che Dio solo sa accanto a questo libro di Flaiano altra testimonianza di una